Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo ai sette vendamenti proposti dal Partito Democratico di Gela al bilancio comunale di previsione del 2016. Si parla di piano colore, assegno civico, interventi a favore delle famiglie disagiate con soggetti autistici e assistenza domiciliare agli anziani. Ce ne parla Fabiola Polara. Sono sette gli emendamenti proposti dal Partito Democratico al bilancio comunale di previsione 2016. A sottoscrivere i documenti è il gruppo consigliare al completo con i consiglieri Alessandra Ascia, Vincenzo Cirignotta, Salvatore Gallo, Romina Morselli e Carmelo Orlando. Consigliere, il Partito Democratico con i sette emendamenti punta a due fattori fondamentali. Uno, il decoro urbano destinando un milione di euro per il piano colore e un milione e 750 mila euro invece per i più deboli. Sì, il decoro urbano quindi diamo la possibilità ai proprietari degli immobili di rifare i prospetti e anche contemporaneamente diamo la possibilità a tanti artigiani locali di lavorare. E dopo il sociale, in un contesto di crisi economico riteniamo il rafforzamento delle politiche sociali prioritario, diamo soldi, pensiamo di aiutare e quindi allargare la platea di beneficiari per quanto riguarda gli anziani, i disabili, iniziativa a favore dei soggetti autistici, soldi per le famiglie in difficoltà e poi pensiamo di mandare a lavorare altri 300 padri di famiglia che non hanno lavoro utilizzando lo strumento dell'assegno civico. Questi sono i temi fondamentali che con noi stanno a cuore e l'auspicio è che vengano accorti favorevolmente anche dagli altri gruppi politici. Da quale capitolo avete estratto queste somme e per quale motivo? Un settore, quello dei rifiuti, ed è da lì che noi intendiamo prelevare queste somme che ammontano a 2.750.000 euro, è da lì che intendiamo prenderli perché innanzitutto perché riteniamo ingiusto che si investa e si arricchisce di somme notevoli un settore che viene quello del servizio di raccolta dei rifiuti che è stato fortemente contestato rispetto al passato. Tutto noi ci potevamo aspettare tranne che ritrovarci oggi caricato nel programma 3 di questo bilancio una somma destinata al settore dei rifiuti di circa 4 milioni di euro in più rispetto alla somma individuata nel contratto d'appalto rifiuti originario. Non capisco come faremo, come faranno loro a spiegare alla città che nonostante questa arrogante e massiccia campagna di sensibilizzazione su come procedere alla raccolta differenziata dovrebbe corrispondere a questa campagna informativa un aumento della percentuale di raccolta differenziata e quando aumenta la raccolta di percentuale di differenziata dovrebbe diminuire il costo. La visione è quella di sostenere chi è rimasto indietro, i più deboli e ridare il decoro alla città che è il programma che il Partito Democratico mette in gamba a tutti i livelli e che il città vuole caratterizzare la nostra azione. Ora vediamo se l'amministrazione comunale sarà attenta alle nostre evidenze. Avete più volte anche sottolineato che il contributo di tutti i componenti del Partito Democratico è stato preso in considerazione e che è stato fondamentale? Ma indubbiamente perché è stato un lavoro di squadra assieme ai consiglieri comunali e dai vostri microfoni vorrei lanciare un appello perché questi sono eventualmente che vanno nel senso del bene comune quindi chiediamo agli altri gruppi di poterli apprezzare e al limite anche di mettere la firma perché non è che vogliamo essere gli ispiratori assoluti. Io penso che sono emensamenti, come diceva il segretario, che vanno nell'indirizzo degli ultimi nell'indirizzo di cercare di mettere in moto microeconomie nel nostro comprensorio. Aveva solo 16 anni e dura vita davanti a sé. Ha cercato con tutte le proprie forze di sconfiggere un male incurabile ma non ce l'ha fatta. Gela piange Alice, una studentessa che frequentava il quinto ginnasio. Un vuoto incolmabile per la famiglia, gli amici e i compagni di scuola. Una notizia che ha lasciato sgomenta tutta la cittadinanza e noi della redazione che spesso dobbiamo informarvi di notizie che non vorremmo mai scrivere. E adesso parliamo della vicenda Gela Calcio. Si chiude purtroppo un ciclo. Ieri la società Bianca Azzurra ha deciso di lasciare a seguito dei numerosi problemi che l'hanno travolta a conseguenza dell'inadeguatezza dello stadio Vincenzo Presti. Il direttore sportivo Giovanni Martello conferma che alcuni giocatori già da ieri sera sono andati via. Lo stesso Martello ha chiuso col calcio. Sentiamo. Era il 17 aprile scorso, c'è dire quattro mesi e otto giorni addietro, quando Gela si strinse attorno alla propria squadra di calcio al fine di conquistare la Serie D. E conquista fu. Dopo un campionato esaltante e un testa a testa con la rivale sancataldese, gli uomini in Bianca Azzurro ottennero la promozione. Finalmente il Gela approdava in un torneo semiprofessionistico dopo quattro esaltanti salti di categoria consecutivi. Ieri a distanza di quattro mesi e otto giorni tutto è finito e a quanto pare definitivamente le nubi dense delle ultime ore hanno prodotto burrasca. Il consiglio di amministrazione del club, presenti il presidente Francesco Tuccio, i consiglieri Lucio Antona e Gidio Alma, ha deciso di mollare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile all'inadeguatezza dello stadio Vincenzo Presti di Contrada Giardinelli che ha determinato, oltre ai gravi danni sportivi, anche gravissimi danni finanziari a causa del fallimento totale della campagna abbonamenti e delle sponsorizzazioni, in quanto nessuno, si legge in una nota della società calcistica, è in grado di dare risposte certe a quanti chiedono rassicurazioni che il Gela giocherà al Presti le partite casalinghe. Comprensibile e noto a tutti che i tifosi gelesi soffrono maledettamente di attacchi d'ansia. Analizzata dunque la situazione generale e in primo piano quella dello stadio Presti, i cui lavori sul manto erboso non sono ancora cominciati, con le conseguenze sportive ed economiche che si stanno riverberando su questa stagione, hanno avuto un ruolo determinante nella decisione presa all'unanimità di lasciare il calcio. Chiunque volesse prendersi carico e cura del Gela sostituendo in toto l'attuale proprietà può farlo attraverso il sindaco al quale verranno consegnate le chiavi della società. Se malauguratamente non dovesse verificarsi nessun avvicinamento in seno alla società, già a partire dalla prima gara di campionato, prevista per domenica 4 settembre, il Gela non si presenterà fino alla radiazione. I tifosi che hanno già acquistato l'abbonamento saranno rimborsati e tutti i giocatori da ieri sono liberi di trovare un'altra squadra. Chiediamo umilmente scusa a tutti i tifosi giolesi. Chiude la nota del club. Da ieri la città ha perso un patrimonio, la maggiore espressione sportiva. Un finale chiaro che nessuno si aspettava. Ma adesso ci chiediamo cosa accadrà. I giocatori dove andranno? È il tecnico? È il direttore sportivo? I giocatori credo, mi auguro, si accaceranno presso altre squadre. Anche perché ora non è che sarà particolarmente facile. Non lo so, le squadre già sono quasi tutte sistemate. Penso che potranno trovare sistemazione altrove. Per quanto riguarda il tecnico la stessa cosa. Per quanto mi riguarda, dopo questa vicenda ho chiuso con il calcio. Perché lavorare da 16-17 anni in varie squadre e avere l'occasione della vita, cercare di raccogliere i frutti dopo tante sofferenze in una piazza così importante come Gela, finire in questo modo è una batosta. E quindi per il momento ho deciso che il calcio smetta. Capisco che è una cosa veramente assurda, atroce per tutti, per la città. Veramente non ho parole, però non posso fare commenti, non mi va di fare commenti. Prendo solo atto di quello che mi ha detto il Presidente. Ieri sera credo che la maggior parte sia andata via e stamattina saranno andati via tutti. Però fermo restando che rimangono sempre tesserati del cittadigelo, fino a quando non ci sono trasferimenti e quando altri restano sempre tesserati cittadigelo. E oggi conferenza stampa del Sindaco Domenico Messinese. Se Tuccio ha deciso di mollare, ha detto il primo cittadino, ci consegni da subito la documentazione. La vicenda stadio ha riferito sempre il Sindaco e solo un pretesto. Sentiamo. Sindaco, ma si doveva arrivare a questo punto con la dirigenza del Gela che alla fine decide di non continuare e con uno stadio, come sottolinea il Consiglio di Amministrazione del Gela Calcio, al momento attuale inadeguato e che non permette alla squadra di giocare. Queste sono valutazioni del tutto unilaterali da parte della dirigenza. Io vorrei ricordare che noi siamo intervenuti in tempi rapidi. C'è un contenzioso lasciato dalla vecchia amministrazione proprio sul campo che abbiamo usato in tempo record. Erano quasi oltre 100.000 euro di debiti che abbiamo usato rapidamente proprio per poter intervenire sul campo. Abbiamo già fatto la gara per poter intervenire, quindi la ditta che interverrà sul Manto Erboso si saprà a fine agosto e inizio di settembre perché la gara deve essere sfruttata secondo disegni di norma. Già si sta intervenendo su tutta la struttura per ammodernare secondo le indicazioni date dalla Lega. Sul Manto Erboso attualmente il Sindaco non si è intervenuti e il 4 settembre tra pochi giorni comincia il campionato. Intanto ci sono squadre di Serie A che le assicuro che non hanno i campi pronti anche perché noi dobbiamo seguire non gli istinti di pancia di qualcuno ma le regole che ci impongono di usare determinate trasparenze negli atti. E questo è fondamentale. Ma sicuramente il fatto anche di non giocare la prima partita non vuol dire che il campo non sia pronto in tempi brevi. Di conseguenza è più, credo, una propria cercare una scusa per volontà già decise da tempo. Comunque lui come imprenditore può prendere le sue decisioni ma sicuramente la gela del calcio lo vede come una specie di affronto. Quindi che a posto di fare un tir e molla che già dura da tempo noi la nostra parte la stiamo facendo e se lui non è in grado di fare la sua parte lo dica ben chiaro, lasci la squadra e poi vedremo se si potrà andare avanti in modo diverso. In maniera molto più pratica, da oggi cosa accadrà? Il club biancazzurro le consegnerà le chiavi e lei si attiverà al fine di cercare altri imprenditori che possano sposare la causa biancazzurra e dunque vedere il gelacalcio ai nostri di partenza in Serie D? Io non vado avanti con proclami. Quando il presidente Tuccio viene a consegnare le chiavi del gelacalcio l'amministrazione saprà quali saranno le azioni da intraprendere però giustamente non voglio muovermi su un'indicazione così aleatoria dove un giorno mi scrivo, un giorno non mi scrivo un giorno me ne vado, un giorno il resto che prenda una decisione almeno sappiamo quali sono le azioni da poter intraprendere perché le assicuro che Gela è una città grande dove ci sono molte persone che vogliono collaborare. In tutta sincerità, quante colpe riscontra l'amministrazione comunale in merito a quello che sta accadendo? Per quanto riguarda l'amministrazione nessuno per quanto se qualcuno poi come al solito vuole cercare di trovare nell'amministrazione un punto dove poter scaricare delle colpe che noi non abbiamo è un gioco che forse Gela qualcuno si diverte da fare ma molte persone, anzi la maggior parte dei gelesi sono persone intelligenti e sanno vedere le cose in modo corretto. Ha detto pure che porterà la squadra al sindaco io ancora non l'ho visto appena viene e porta la squadra al sindaco io ho potuto prendere determinate decisioni però adesso per me il Gela Calcio esiste e c'è come presidente l'ingegnere Tuccio E quale potrebbe essere, mi perdoni, una decisione del comune? Se qualcuno dice di fare una determinata cosa la faccia io poi agisco di conseguenza è inutile parlarne prima perché non c'è nulla voglio fare soltanto delle dichiarazioni basate sul nulla allora se lui vuole ha deciso di dare la squadra all'amministrazione venga, mi porti le carte poi facciamo un passaggio ufficiale e poi vediamo quello che dobbiamo fare Esercitazione anti-inquinamento alla piattaforma offshore Perla L'attività è stata messa in atto dalla capiteria di Porto e ha coinvolto il personale della società Enimed e le compagnie portuali del Porto Isola di Gela è stata simulata la rottura di una tubazione che collega le piattaforme Perla e Prezioso con contestuale sversamento in mare di circa 4 metri cubi di greggio i mezzi adibiti al disinquinamento sotto il coordinamento via mare di una motomedetta e via terra della sala operativa della capiteria hanno effettuato una circoscrizione dell'aria interessata dalla macchia oleosa, circa 600 metri quadrati impiegando delle panne galleggianti ed utilizzando successivamente uno skimmer per decontaminare la zona assorbendo la sostanza inquirante e ponendo fine all'emergenza Gela si è mobilitata per dare il proprio contributo a seguito del spaventoso terremoto che si è verificato giorni dietro nel centro d'Italia con morti, devastazioni, lutti la FIDAS ADAS si è unita all'appello lanciato dalla FIDAS nazionale in merito alla programmazione della donazione del sangue il centro nazionale sangue ha attivato il piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze per far fronte alle eventuali necessità trasfusionali dei feriti nelle province interessate si è mossa anche l'ADAS di Gela l'attività dell'unità di raccolta di via degli appennini 5 in città prosegue regolarmente per quanti volessero manifestare la propria solidarietà nei giorni previsti lunedì, mercoledì, venerdì e domenica mattina per qualsiasi informazione si può contattare il numero telefonico 0933 825 5551 oppure il 338 2396 225 in considerazione del periodo che siamo invito tutti a donare ricordo sempre che il sangue non lo troviamo in farmacia ma è un atto d'amore che noi facciamo verso noi stessi e verso il nostro prossimo siamo in un periodo di emergenza in considerazione anche dei fatti che sono accaduti in Italia con il terremoto dove praticamente in particolare in questi momenti abbiamo bisogno di sangue sangue che possiamo solo trovare se noi stessi doniamo il sangue pretente voglio ricordare a tutti i nostri donatori che fa bene io dico e consiglio sempre che fa bene per tre volte uno perché facciamo dei beni ai nostri fratelli l'altro perché riusciamo a tenere sotto controllo la stessa salute nostra infatti dico sempre a tutte le mamme dei ragazzi che vengono a donare che avere un figlio donatore significa avere un figlio sano in quanto viene controllato e monitorato il suo stato di salute in continuazione invito a essere tutti dei donatori in maniera continua anche perché in questa maniera assicuriamo la purezza del nostro assicuriamo pretente che il sangue sia controllato e testato continuamente e quindi riusciamo ad avere un sangue che non ci crea nessun problema Donare è una cosa che ho sempre sentito nel mio cuore fare qualcosa di mio senza che nessuno mi obbliga per gli altri ecco e questa è la cinquantottesima donazione quindi per me è diventata una routine quotidiana magari ora dono ogni sei mesi ma prima donavo ogni tre mesi è una cosa quotidiana per me ecco si è sentita pochi minuti della tua vita possono salvare altre vite questo è il motivo principale e intanto giovani democratici della provincia di Calzanissetta contribuirà dando un sostegno concreto alle popolazioni colpite dal terremoto il materiale che è possibile donare è composto da acqua, cibi in scatola pannolini, latte in polvere, succhi di frutta omogenizzati prodotti per l'igiene intima, medicinali da banco, spazzolini, dentifrici, torce, pile, batterie elettriche il tutto potrà essere consegnato contattando il responsabile della raccolta più vicino alla propria città facendo attenzione affinché sia tutto nuovo e imballato il centro di raccolta provinciale sarà allestito presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico in via Valla d'Aosta a Calzanissetta a Gela si può contattare un numero telefonico 345-848-8681 ripetiamo 345-848-8681 inoltre è possibile scrivere a federazione gd.caltanissetta.com unità del corpo forestale sono al lavoro in questi giorni per pulire l'area archeologica dell'acropole a Gela la subintendenza e il museo hanno chiesto la collaborazione del settore ecologia del comune per lo smaltimento dei rifiuti raccolti dopo un sopralluogo la Tecra è stata incaricata di distribuire i sacchi che verranno poi ritirati pieni una volta al giorno sino alla fine delle opere di pulizia anche ai forestali, ha detto l'assessore all'ambiente Simone Siciliano è stato raccomandato di eseguire scrupolosamente la raccolta differenziata ciò che infatti viene fissato per i cittadini deve essere un'azione acquisita dalle istituzioni fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi venerdì alle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici l'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5 anche nei giorni di domenica martedì e giovedì un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto eccoci in seconda parte del telegiornale esiterà domani la seconda edizione di Gela in arte una rassegna con un programma artistico intenso a partire dall'evento che coinvolgerà tutto il centro storico di Gela l'evento è organizzato dalla situazione Gravità Zero vediamo Gravità Zero è pronta per domani si va in scena con un palcoscenico molto grande che sarà il centro storico di Gela un evento che è arrivato alla sua seconda edizione e già questo è un bel traguardo Gela in arte come sarà articolata la notte bianca Sì vabbè come dicevi benissimo tu questa è la seconda edizione quest'anno abbiamo avuto anche l'opportunità di avere diciamo di riuscire ad avere anche un po' più di tempo per poter organizzare la manifestazione questo sicuramente ci ha dato subito riscontro perché appunto ci sono diverse associazioni che quest'anno aderiscono all'iniziativa e questo ci consentirà e ci consente sicuramente di poter offrire alle persone che verranno a trovarci anche una varietà artistica diciamo di esibizioni diverse rispetto a quello che era l'anno scorso è un po' diciamo un'evoluzione in effetti è un traguardo che siamo riusciti a raggiungere facendo questa seconda edizione come sarà articolata la serata a che ora si partirà e quali zone del centro storico saranno coinvolte? diciamo che il centro storico sarà coinvolto quasi interamente in particolare dalla chiesa madre fine quattro canti dalle 18 partiamo con la sfilata di auto d'epoca e poi dalle 21 a cadenza di circa di mezz'ora dalle 20 e 30 a cadenza di circa di mezz'ora ci saranno diversi spettacoli teatro, musica, pittura la pittura inizia dalla mattina perché ovviamente i pittori hanno bisogno di più tempo per dipingere esibizioni di ginnastica artistica insomma un mix vincente che l'anno scorso ci ha portato degli ottimi risultati che riproponiamo anche quest'anno sicuri che le gelesi e i gelesi che l'anno scorso hanno affollato il centro anche quest'anno gradiranno quello che la nostra associazione insieme alle altre proporrà negozi aperti per i ritardatari dello shopping sì vabbè appunto anche il consorzio Gera Centro quest'anno diciamo aderito all'iniziativa era importante che anche loro appunto essendo le prime diciamo più interlocutori del centro storico quelli che comunque ci credono investono nel centro storico con le proprie attività insomma hanno aderito diciamo di buon grado alla serata diciamo che si entra a svolgere proprio domani quindi diciamo questo mix anche diciamo suggerito dal nostro direttore artistico che croce a tardi dalla nostra vicepresidente che è andata al set e da Martina Finzivillo che anche lei fa parte in qualità di segretario dell'associazione Grevita Zero è prevista per lunedì 29 agosto alle 20.30 presso il club La Vela sul lungomare di Gela la conferenza sul tema Federico II il contesto politico e culturale medievale e la testimonianza urbanistica a Gela e a Favara l'iniziativa è del club per l'UNESCO di Gela relazionerà Filippo Ciara studioso dell'epoca federiciana introdurrà i lavori Giuseppe Nicoletti presidente del club per l'UNESCO di Gela sono previsti poesie e canti della scuola siciliana del 1250 storie medievali del cantastorie Tano Schifani e sfilata in costume d'epoca medievale del corteo storico Branciforti di Miscemi si darà domenica 28 agosto alle 21 alla Rotonda Est di Machitella a Gela il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavorre l'iniziativa è della associazione Elevision con il patrocinio della regione e del comune un evento unico in Sicilia orchestra dal vivo ospiti nazionali 20 voci scelte in tutta Italia la manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri ed Angelo Martini si ritroveranno in sella le loro bici in piazza Garibaldi domenica 28 agosto di buon mattino per raggiungere pedalata dopo pedalata il lungomare di Cefalù un'escursione in mountain bike organizzata per il quinto anno consecutivo dall'Imera Family Bikers un appuntamento cresciuto negli anni al quale gli appassionati delle due ruote sembrano non voler rinunciare una giornata dopo quella di fine luglio quando un gruppo di 20 ciclisti hanno scalato l'Etna raggiungendo uno dei criteri centrali all'insegna del divertimento in mezzo alla natura che si concluderà al tramonto e che vedrà i ciclisti dell'associazione sportiva e tanti altri provenienti dalla provincia attraversare la valle dell'Imera il ponte 5 archi Resuttano Tremonzelli Caltavuturo Scillato Buonvornello Sina Aggiungere a Cefalù Anche quest'anno il nostro club l'Imera Family Bikers organizza appunto la quinta edizione dell'escursione Caltanissette a Cefalù quest'anno ci sono 42 iscritti e l'escursione la partenza dell'escursione avverrà in piazza alle ore 6 di domenica 28 dalla piazza Garibaldi per arrivare sul lungomare di Cefalù dove poi finiamo con un bagno così defaticante una doccia e il rientro in pulmone solo in esclusiva per noi Qual è la difficoltà di questo percorso? Diciamo che ci vuole un minimo di preparazione perché sono quasi 128 km che percorriamo per il 90% tutto in fuoristrada ci sono delle asperità e delle pendenze che possono superare a volte anche il 15% però quello che diciamo è importante è che la lunghezza del percorso fa sì che nelle ore più calde della giornata saremo praticamente bici è bello perché riesci a tirarti dentro più persone possibile l'organizzazione la macchina organizzativa fa sì che per esempio a seguito ci saranno due furgoni che incontreremo in quattro pistop per fare il rifornimento dell'acqua dei sali minerali e della banane perché servono forse il nostro club è quello di aggregazione e di amicizia quest'anno si sono inseriti cinque membri nuovi hanno visto come la nostra filosofia che non è quella più agonistica ormai ma è quella di aggregazione ed amicizia e vengono per puro divertimento abbiamo già in calendario altri due impegni il prossimo weekend quello del 3 settembre collaboriamo per una una festa che fa la strada foglia in feste dove noi faremo un piccolo percorso cittadino all'interno delle viuzze la strada foglia e ci sarà un responsabile che ci aiuterà e ci farà da Cicerone andremo a visitare anche le catacombe della chiesa di San Giuliano di San Domenico che io scusa e poi invece a ottobre facciamo un'escursione due giorni sui nebrodi con una persona responsabile che ci farà da guida ultimo appuntamento nell'ex monastero delle Benedettine con l'iniziativa l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune domenica 28 agosto alle 21 e 15 concerto jazz del trio Alessandro Locchiano tromba Nuccia Scerra Pianoforte e Emanuele Smecca chitarra e appuntamento con il teatro oggi alle 21 e 30 all'arena all'aperto dell'antidoto a Macchitella sul palco la compagnia Antidoto in Don Quixote e San Ciupanza il costo del biglietto lo ricordiamo è di 5 euro a coppia abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti